Si fa vedere ancora però il Brescia con il Verona tutto catabultato in avanti e qui c'è la rete Aino del 2-0, siamo ormai nel tempo di recupero, il Brescia che va sul 2-0, naturalmente grandi festeggiamenti a Brescia, quasi avessero vinto la Champions League, quasi avessero vinto contro il Barcellona.